Giorgia Meloni è pronta a governare da Palazzo Chigi. Io sono pronta, fratelli d'Italia lo è. Governa chi vince alle urne e noi siamo pronti, dice la deputata romana in un'intervista alla stampa. La coalizione, aggiunge, può vincere le elezioni, ma deve prepararsi a governare in una fase complicata, dovremo concentrarci sulle cose che si possono fare. Meglio mettere una cosa in meno, che una in più che non si può realizzare. Sulla scelta del premier, la leader di FDII sottolinea che una regola c'è, ha sempre funzionato e non abbiamo tempo per cambiarla, quella per cui chi vince governa. Una regola su cui però, nel centrodestra c'è chi cerca di frenare. Da Forza Italia il coordinatore nazionale Antonio Tajani si è affrettato a precisare, bisogna vincere, non è una corsa a chi arriva prima. Intanto giochiamo per vincere la partita, poi vedremo chi prenderà in mano la coppa. Mettendo di fatto in discussione quella regola esplicitata alla precedente tornata elettorale nel 2018, per cui il partito che prendeva più voti era anche quello incaricato di proporre il presidente del Consiglio. E Matteo Salvini, il leader della Lega, partito che al momento nei sondaggi viene dato quasi 10 punti percentuali sotto Fratelli d'Italia, sembrerebbe confermare quella famosa indicazione. Il prossimo premier? Finalmente lo sceglieranno gli italiani, chi prenderà un voto in più avrà l'onere e l'onore di indicarne il nome. Se guardiamo agli ultimi sondaggi, non sembra esserci alcun dubbio su chi dovrebbe essere il candidato premier del centrodestra. O meglio, la candidata, perché il partito di Giorgia Meloni nelle ultime intenzioni di voto è nettamente davanti ai due alleati, se Fratelli d'Italia sfiora infatti il 24%, la Lega è appena al 15%. Forza Italia è invece circa il 7%. Chiaramente molte cose possono ancora cambiare prima del 25 settembre e in ogni caso il sistema di alleanze è fondamentale, ma per ora Meloni sembra avere senza ombra di dubbio il primato. Grazie a tutti.